Dispiace per i ragazzi perché poi alla fine ci è capitata anche la palla giusta per pareggiare con Sbarbati. Sicuramente lui pensava di essere in fuorigioco e ci ha dato un po' molle perché se no poteva fare di tutto, poteva prendere lo specchio della porta, poteva stopparla, tirare, però nel calcio c'è tutto. Però complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una buona partita, non come domenica, ma ripetere quella partita domenica dovevano essere marziani. Si chiude questo miniciclo di partite, soddisfazione comunque in casa Castelnuovo per quello che si è riusciti a fare al primo anno in Saviedi. Sì ma proprio l'anno 2020 è stato positivissimo sia per quanto riguarda la vittoria del campionato di eccellenza sia cercare di fare un buon campionato di questo, quindi sicuramente è stato positivo, complimenti ai ragazzi, alla società, al territorio. Sicuramente gli daremo anche ancora delle buone soddisfazioni. Alla ripresa ci sarà un'altra sfida difficilissima col Cinzia Albalonga, si chiude questo mini tour di partite difficilissime che vi ha visto impegnati. Sì, Albalonga è un'ottima squadra, tant'è che è imbattuta in casa ancora, quindi conosco qualche giocatore, è un'ottima squadra, ha fatto ottimi risultati e sicuramente ci sarà da lottare, ma non ci tireremo indietro, è nella nostra indole. Perché voi fuori casa siete veramente una macchina da punti. Sì, noi fuori casa cerchiamo sempre di trovare e cercare la vittoria, così faremo anche il 6 di gennaio. Speriamo che la Befana ci dia qualche buon dono. Grazie. Grazie.